Stili di attaccamento. Nel 1978 Mary Hemsworth, una psicologa canadese, allieva di John Bowlby, psicoanalista britannico teorico della teoria dell'attaccamento, fece un esperimento chiamato Strange Situation, un esperimento dove la Hemsworth dimostrò i diversi stili di attaccamento dei bambini attraverso questo esperimento dove la madre entrava e usciva dalla stanza, dove il bambino veniva lasciato da solo con un educatore, facente parte dell'equip che osservava questo esperimento. I bambini che sviluppavano l'attaccamento sicuro erano quelli che erano capaci di tollerare l'assenza della madre, ne cercavano lo sguardo e il contatto a rientro nella stanza, ma riuscivano a tollerare la presenza dell'educatore, una persona sconosciuta e allo stesso tempo a poter esplorare l'ambiente di gioco oppure nell'assenza della madre. Queste sono le persone che poi riescono a creare nei modelli operativi interni un attaccamento sicuro anche nelle relazioni. Diverso è il caso di bambini che non tollerano l'uscita della madre, non tollerarono nell'esperimento l'uscita della madre dalla stanza, ma allo stesso tempo non riuscirono nemmeno a avere un contatto con l'educatore e sono quei bambini che a rientro della madre nella stanza si dedicano di più a quello che è il contatto con i giochi, con l'ambiente esterno, l'esplorazione dell'ambiente esterno. In questo secondo caso è chiamato attaccamento evitante, insicuro evitante, ovvero del bambino che si dedica di più a quella che è l'esplorazione dell'ambiente esterno a discapito di quello che è un ricongiungimento con la madre quando essa rientra nella stanza. Questo perché accade? Accade perché probabilmente il bambino in questa situazione qua, ma come specchio di relazioni precedenti con la madre, non è riuscito a stabilire un attaccamento sicuro, quindi la madre non ha sempre risposto ai suoi bisogni in maniera non solo puntuale, tempestiva, ma soprattutto in maniera corretta. Questo quindi ha creato una disregolazione che ha portato il bambino a autoregolarsi solo sull'ambiente esterno, quindi a far prevalere la ricerca nell'ambiente esterno. Diverso è ancora il terzo caso, ovvero quello dell'attaccamento ambivalente, insicuro ambivalente. In questo caso il bambino non accoglie né la madre quando rientra nella stanza, né ne cerca il contatto e allo stesso tempo non si dedica alla ricerca dell'ambiente esterno, quindi non esplora l'ambiente esterno, i giocattoli e quello che lo circonda. In questo caso qual è il modello operativo interno che si sviluppa nel bambino? È tipico di un bambino che ha avuto delle regolazioni affettive con la madre che sono state ambivalenti, cioè momenti in cui la madre ha risposto in maniera molto attaccata al bambino, alle sue esigenze e momenti in cui la madre invece è stata imprevedibile e non ha saputo rispondere. Questa disregolazione porta il bambino a non riuscire a capire quello che succede attorno perché appunto le relazioni interne, il modello operativo interno che lui sviluppa è di una ambivalenza, cioè sì e no, ti capisco e non ti capisco. E questa cosa crea poi difficoltà nelle relazioni anche perché poi i modelli operativi interni sono quelli che regolano, come teorizzò Bowlby nella teoria dell'attaccamento, sono quelli che regolano le relazioni future. Successivamente infatti venne teorizzato un ulteriore modello di attaccamento che fu quello l'ha disorganizzato e disorientato, cioè un modello dove figli che subiscono abusi o figli di genitori psichiatrici, figli di situazioni dove ci sono stati lutti, dove ci sono state situazioni molto difficili, hanno portato a una disorganizzazione, quindi a una certa immobilità, atteggiamenti corporei, di fissità e questo crea ulteriori modelli interni che sono disregolati e disorganizzati che vanno poi a incidere su quelle che sono le relazioni perché i modelli di attaccamento che abbiamo visto, cioè quello sicuro, insicuro evitante, insicuro ambivalente e disorientato, disorganizzato, quindi questi quattro modelli operativi che emergono dagli esperimenti e che sono poi la base per le relazioni vanno a influire su quella che sarà la capacità dell'adulto di saper gestire se stesso come meritevole di ascolto o come persona capace di ascoltare gli altri e allo stesso tempo ne regolano quelle che sono le capacità affettive. Quindi come teorizzo Freud, il bambino è il padre dell'adulto e quindi è importante capire come queste esperienze di attaccamento primario siano eccezionalmente fondamentali per quello che poi sarà lo sviluppo non solo della relazione con la madre e con i genitori ma anche di quello che sarà lo sviluppo interno del bambino nella capacità che esso avrà di poter gestire se stesso e le relazioni esterne, quindi di come sarà uomo o donna da adulto, il bambino e la bambina. E tu, quale modello operativo, quale stile di attaccamento hai?